buongiorno allora è un po tardi stamattina lo ammetto ma sinceramente non avevo voglia di aprire iniziare un video prima mi volevo un attimo riposare perché ho dormito malissimo e in più c'è una giornata uggiosissima quindi proprio la voglia era pari a zero e niente però adesso diciamo che mi sono un po tranquillizzata tra virgolette volevo preparare il pranzo e nel frattempo chiacchierare un po con voi come si faceva ai vecchi tempi di youtube allora mi vedete in tenuta casalinga questo è un completo che ho preso da sheen ma vi parlo di almeno due anni fa e c'ha una cannottiera sua grigia però io avevo questa addosso già da stamattina da quando sono uscita quindi ottenuto questa allora volevo rispondere a un po di domande nel frattempo che mi metto a cucinare spero che mi sentiate allora l'altra volta quando vi ho fatto vedere il video su quello che mangio una ragazza mi ha scritto tra i commenti ma non è meglio che cucini le verdure grigliate invece di utilizzare le verdure le verdure surgelate visto che comunque ci devi mettere l'olio allora premettendo che le verdure surgelate le utilizzo per comodità quando non ho proprio tempo materiale però io nelle padelle quando vado a cucinare anche le verdure surgelate è vero che nella busta c'è scritto che si deve mettere uno due cucchiai d'olio ma io non ce li metto mai perché non non ce l'ho mai messi sinceramente non io condisco tutto quanto sempre a crudo invece dell'olio vado a metterci un goccino d'acqua in maniera tale che quel goccino d'acqua si amalgama insieme al all'acqua diciamo del surgelato e quindi piano piano si scioglie ecco perché utilizzo anche le verdure grigliate surgelate perché io comunque non ce lo metto l'olio in più io ho comprato ultimamente ne ho comprato anche due perché non non mi bastavano le padelle della termo z no le padelle della toniana scusate mi ero sbagliata con quell'altra padella intanto prendo un piatto ok le padelle della toniana che non so neanche se vi avevo fatto vedere in un video ma le ho prese all'euro spin perché erano praticamente in offerta lì questa settimana e le ho prese lì c'erano in offerta due padelle una è quella che sto usando in questo momento e un'altra è questa vediamo se eccole qua sono queste padelle qua ora io ho queste della toniana che ho preso appunto all'euro spin ma le potete trovare ovunque e sono praticamente queste padelle che hanno questa pietra all'interno ok questa pietra vi permette di cuocere senza utilizzare l'olio io infatti ci ho provato un sacco di cose e devo dire la verità non non mi si è attaccato niente mi sia tutto cotto tranquillamente quindi dopo una volta cotto io metto l'olio un'altra cosa ho provato a fare anche il pollo i cosci di pollo nella frigitrice ad aria e vi assicuro che io non ci ho messo assolutamente niente io ho messo solamente i cosci dentro senza nessun condimento e sono venuti morbidi all'interno e croccantissimi all'esterno ci sembravano come il pollo da rossicceria quindi io per chi ha la frigitrice ad aria vi consiglio provate a farci i cosci di pollo perché vengono al bacio proprio poi io dopo l'ho conditi col sale e l'olio a crudo sempre però potete anche condire solo con il sale quando li mettete nella frigitrice ad aria e poi una volta fuori diciamo metterci un goccino d'olio ma vi assicuro che non serve perché sono talmente morbidi e talmente croccanti che la frigitrice ad aria li rende tali che proprio non serve metterci nel metterci l'olio insomma questa era una cosa che volevo rispondere poi volevo rispondere anche un'altra ragazza che mi ha detto che mi ha chiesto come di fare un video su come mi ero truccata nell'ultimo video che è quella praticamente quello di halloween allora ragazzi io penso che sono quattro anni da quando iniziato il covide che io praticamente ho smesso di truccarmi come mi truccavo una volta perché io praticamente ho iniziato questo canale come l'hanno iniziato la maggior parte delle persone ai tempi che l'ho iniziato io cioè con i tutorial di trucco in stile clio make up ok poi piano piano il il mondo di youtube è cambiato e il make up è un po stato messo da parte per altre cose allora io non faccio niente di particolare nel senso che prima allora in questi ultimi due anni poi proprio veramente niente di particolare perché mettevo un po di correttore la terra come se fosse il come se fosse come si chiama la mannaggia non meglio nel termine il fondotinta in polvere ecco usavo la terra non usavo il fondotinta in polvere usavo la terra lo mettevo con lo stesso pennello il fondotinta in polvere una matita nera all'interno dell'occhio e il mascara e stop perché poi tanto c'erano le mascherine e quindi non non me ne truccavo più di tanto perché poi tutto quanto rimaneva nella mascherina ultimamente che la mascherina diciamo all'aperto non si usa e si usa solamente all'interno dei posti o comunque nei luoghi di assembramento ho ricominciato un po di più truccarmi ma non faccio niente di complicato perché anziché mettere la terra come come fondotinta in polvere come fondotinta in polvere ho ricominciato a mettere il fondotinta classico quello liquido e poi basta poi mette un po di blush sempre la matita o nera o marrone o comunque colorata all'interno dell'occhio o comunque sopra l'occhio quando proprio c'ho voglia e c'ho tempo e il mascara basta ragazzi io non metto più niente perché poi nelle labbra non lo metto perché è inutile cioè mettendo la mascherina dopo due secondi anche un semplice lucida labbra mi si leva quindi non è niente di così eclatante come uno può pensare e quindi niente quindi volevo un po rispondere a queste domande perché me l'avete fatte poi comunque volevo ringraziarvi perché i commenti che mi lasciate io so che sono di persone che mi seguono veramente da tanto perché le riconosco ormai i nomi me li ricordo insomma non so ancora così rincitrullita come come si può pensare e mi fa molto piacere molto molto piacere però ecco ragazzi non è non faccio niente di complicato insomma non vi aspettate cose complesse e niente detto ciò volevo anche farvi vedere un'altra cosa prendete un po a random sto video allora stamattina ho fatto questa crema alla alle nocciole una simile nutella l'ho fatta allora io l'ho fatta col bimbi ma vi assicuro che ho seguito la ricetta una ricetta che ho trovato su instagram in un profilo instagram è praticamente buonissima buonissima io l'ho fatta perché perché ovviamente seguendo un regime alimentare sano la nutella ovviamente abbandita ragazzi non pensare di poter utilizzare la nutella classica visto che la mattina è il pasto diciamo dove posso un po osare con lo zucchero con il dolce e visto che domani è sabato e poi era anche la domenica ho deciso di farmi pancake anche quelli seguendo una ricetta che ho trovato e aspettate che giro le melanzane per pranzo le melanzane per pranzo ok e visto che appunto vi ho detto domani mattina e domenica mattina voglio mangiare i pancake anche quelli fatti comunque non con la ricetta classica del pancake ma con una ricetta un po più leggera volevo metterci sopra una puntina di di nutella però ovviamente non potendo utilizzare quella voglio provare ad utilizzare questa mi è venuto un vasetto questo penso che era il vasetto quello del burro d'arachidi pensate un po io riciclo ogni cosa nel vasetto del burro d'arachidi questa penso che ci durerà una vita eterna la ricetta la ricetta se volete ve la lascio qui sotto così magari se volete rifarla potete rifarla tranquillamente ve la scrivo qui sotto nel box informazioni quindi trovate tutto grammatura tutto quanto per chi la vuole fare con il bimbi la trova sotto il nome crema la gianduia comunque vi lascio anche quella o nutella mi pare proprio nutella c'è scritto però io ho utilizzato gli ingredienti di quella che ho trovato su instagram utilizzando il bimbi quindi ho ridotto praticamente le tempistiche e ho fatto una nutella più sana perché quella del bimbi effettivamente c'ha delle grammature degli ingredienti che non sono sani perché c'è l'olio di girasole eccetera però mi ricordo che me l'aveva fatta una mia amica 4-5 anni fa ed era molto buona ma vi assicuro che questa è ancora meglio è veramente meglio comunque ve la scrivo qui sotto così se la volete provare sia chi ha il bimbi sia chi non ha il bimbi può benissimo provarla è facilissimo non è una cosa complicata ci mettete pochissimo basta avere pazienza e crearsi le cose e niente giriamo ancora le melanzane questo è il mio contorno penso di oggi a pranzo e di stasera a sto punto perché una melanzana è veramente tanta grigliata visto che comunque i miei figli non lo mangiano mio marito è andato a roma per delle faccende personali quindi stiamo un po' così ho fatto fuori un dito volevo aggiornarvi un attimo sul power yoga eccetera allora io sto andando a lezione sia di power yoga sia di postural yoga allora devo dire che la postural la sto facendo la mattina e vi assicuro che un tocca sana è come se vi alzate e fate stretching cioè fantastico perché vi allunga poi è tutto basato sul respiro sull'allungamento della spina torsale della colonna veramente veramente bello mi piace tantissimo per rilassantissimo cioè quando asco da lì dopo che ho fatto lezione perché ce l'ho tipo alle 10 di mattina dopo aver fatto quella lezione vi giuro che sono carica a bomba e niente quindi quello mi piace poi in più mi aiuta a è una vera e propria terapia quindi mi aiuta comunque con la schiena con la posizione eccetera perché io sono un po' con la schiena arcuata nel in basso alla colonna quindi per me alcune posizioni sono un po' e alcuni anche camminare a lungo piano per me è deletereo quindi mi serve assolutamente e poi sto continuando anche power yoga su power yoga sono molto molto soddisfatta perché sto avendo dei miglioramenti assurdi e non pensavo dato che comunque io non ho un peso leggerissimo ho comunque un peso bello importante e quindi non pensavo di poter riuscire a fare questa cosa però ci sono riuscita ci sto riuscendo sto andando avanti piano piano e l'insegnante ci ha detto che inizierà se avrà dei riscontro positivo anche pilates quindi cioè sto super gasata andrò anche a provare quella così poi mi farò praticamente tutta una una programmazione di tutta la settimana la cosa positiva per me è che mi hanno messo delle lezioni la mattina che visto che io ho i figli a scuola non andando a lavorare ho più tempo rispetto a chi lavora di poter andare anche la mattina in palestra quindi questo mi aiuta tantissimo perché io di pomeriggio sono un po' una bomba a casa nel senso che i figli arrivano devono pranzare devono fare i compiti poi comunque anche loro hanno le loro attività da andare a fare e mio marito anche ha iniziato pugilato quindi anche lui ha le sue attività da fare e quindi oltre a ovviamente il suo lavoro e altri impegni familiari di conseguenza per me va benissimo andare a fare qualche lezione la mattina ora vediamo se riesco a sistemare tutta la programmazione che ho intenzione di fare nella mia testa se la riesco a sistemare effettivamente nella giornata perché mi rendo conto che anche il fisico mi deve permettere di farlo se il fisico a un certo punto mi abbandona perché mi dice guarda non gliela faccio più logicamente non è che posso esagerare e niente mi sa che vi ho detto tutto si saranno solo queste cose che volevo dirvi e io nel frattempo continuo a preparare il mio pranzo anche se effettivamente non so neanche che ore sono aspettate fatemelo vedere nel cellulare non posso vederlo nel cellulare ok sono alle 11.23 ancora presto niente volevo solamente passare questi un quarto d'ora questo quarto d'ora rispondendo un po' a delle domande perché io non mi metto a rispondere ai commenti vi lascio il cuoricino e poi rispondo perché sennò diventa troppo lunga la mia risposta perché dovrei argomentarle spesso e volentieri nei commenti non è che posso mettermi ad argomentare più di tanto preferisco dirvela e spiegarve la voce anche perché mi piace rispondere alle vostre domande con un video o comunque parlando perché penso che anche per voi sia una spiegazione più che giusta e più che chiara piuttosto che scrivere una risposta magari alcune cose vengono fra intese altre no eccetera vabbè comunque questo era il mio pensiero al riguardo niente allora qui abbiamo finito ho finito le mie melanzanine eccole qua ecco qua queste sono le mie melanzane di contorno dopodiché ci andrò a mettere i ceci ho preso questi ceci che sono l'ho presa alla copp le conserve della nonna ceci giganti cotti al naturale ho guardato subitissimo ho guardato la tabella degli ingredienti anche la tabella quella del dei cosi nutrizionali diciamo ho guardato ho guardato questo e niente sono molto molto buoni questi di questa marca di solito in generale tutto quello che sta dentro il vetro è sempre meglio di quello che sta dentro la latta ancora meglio quello che dovete cucinare da soli ma visto che io ho l'unica cosa che odio cucina ma so i ceci i fagioli e basta perché le reticchie ci vuole meno tempo però i ceci e i fagioli io odio infatti c'è sempre mia suocera che quando li fa li prendo sempre già pronti io lo dico proprio le dico se sono già cotti se li devo coce no infatti c'ho anche i fagioli che mi ha fatto lei insomma vabbè comunque tornando a noi oggi a pranzo appunto farò melanzane ceci e ci aggiungio ci aggiungio ci aggiungio l'orzo come carboidrato e ho concluso il mio pranzo i figli invece hanno il loro amato ragù che gli ho fatto sempre io col bimbi l'ho fatto in quantità esagerata vagonata messa in freezer e ogni volta che finisce un baratto lo tiro fuori in altro baratto e glielo do perché loro praticamente sono avanti del ragù e in più ho provato ho provato anche a prendere il ragù quello quello già pronto ma non gli piace logicamente immaginavo però non è che mi posso mettere tutti i giorni a preparare il ragù quindi lo preparo in quantità grossa così come ho preparato la salsa di pomodoro già pronta così la devo solamente scaldare due minuti in padella e ho fatto anche quella e ho tutto praticamente messo nel freezer pronto per essere utilizzato poi comunque la salsa di pomodoro la uso pure per la pizza a proposito ecco che vi volevo far vedere però mi sa che ve lo faccio vedere direttamente un altro giorno no ve lo faccio vedere adesso allora con mio marito abbiamo preso questa allora noi siamo amanti della pizza però purtroppo con il forno classico di casa la pizza non verrà mai buona allora abbiamo voluto prendere questo l'ho provato io sabato dopo che mio marito mi aveva lasciato l'impasto l'ho provato io sabato e mi è venuta una pizza buonissima per di più la li metto giù per di più la pizza viene come piace a me cioè col contorno alto e al centro ovviamente non una sottiletta ma il giusto di altezza mi è piaciuta tantissimo perché rimane croccante croccantissima e morbida cioè nel senso sembro matta croccante intorno e morbida al centro buonissima buonissima se c'è qualcuno che ce l'ha a casa mi può dire se si trova bene se ci ha avuto pure pure se pure voi avete avuto lo stesso mio la stessa mia esperienza positiva ci potete cuocere tutti i tipiologia di pizze anche quelle surgelate e ve le cucina in pochissimo tempo perché quattro minuti è già pronta la pizza quindi invece che col forno che io ci mettevo anche un quarto d'ora buono invece con quella subito pronta pupà mangiato olè niente a posto io ho finito di dirvi tutto sono 20 minuti che sto parlando quindi direi che è giunto il momento di salutarti ci vediamo al prossimo video e un bacione a tutti ciao ciao ciao